La nuova Ferrari SF24 Evo che abbiamo visto in pista a Fiorano assomiglia sempre di più alla Red Bull? Ma come mai vi faccio questa domanda? Beh, perché a vederla esteticamente ha la bocca ai radiatori simile a Red Bull, con questo becco rovesciato con la parte superiore sporgente all'ingresso di queste prese d'aria. Ma non solo, anche la forma delle pancia è più slanciata in stile RB20. E non solo, il bypass duct è anche stato modificato perché diventa una presa d'aria verticale, come sulla Red Bull, che serve di fatto a modificare l'impianto di raffreddamento della SF24. E queste sono solo alcune delle modifiche che abbiamo visto sulla SF24. E tutto ciò ci potrebbe far pensare, cavolo Ferrari ha deciso di andare nella direzione di Red Bull. Ma è veramente così? Nel video di oggi andiamo ad analizzare tutte le modifiche nel dettaglio e vediamo anche i benefici che danno alla rossa. Sappiamo che Leclerc ha promosso la SF24 Evo nell'unico curvone veloce che presenta Fiorano, ma ora come ora i tecnici stanno analizzando i dati in vista del Gran Premio di Imola per cercare di migliorare l'assetto per la pista italiana. E nell'ultima parte del video parleremo di una cosa molto importante vista sulla Ferrari a Fiorano che dovete sapere, perché riguarda le altezze da terra. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Ditemi nei commenti quale tra le modifiche che abbiamo visto in pista a Fiorano vi ha sorpreso di più. E secondo voi Ferrari potrà lottare per la vittoria contro Red Bull a Imola? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Come sempre lasciate un like e iscrivetevi al canale se vi piacciono i video che escono ogni settimana. Attivate le notifiche così non vi perdete nessun aggiornamento su notizia, tema auto e Formula 1. Prima di continuare con il video, volete acquistare un'auto usata? State attenti! Date un occhio al suo passato con Carfax, che è anche lo sponsor di questo video. Infatti comprare un'auto usata può essere un vero e proprio incubo, e ve lo dico per esperienza. Ci sono incidenti non dichiarati, danni nascosti, crinometraggio truccato e tanto altro. E quindi come si fa a sapere se si sta facendo un vero e proprio affare acquistando un'auto usata o si sta prendendo una fregatura? E qui entra in gioco Carfax, che vi dà la possibilità di vedere un report dell'auto che volete acquistare. Vi basterà inserire il numero di targa sul sito e in pochi secondi avrete accesso a cronologia degli incidenti, danni segnalati e controllo del chilometraggio. Sul primo punto potete verificare se il venditore ha detto tutti gli incidenti sull'auto. Sul secondo punto potete verificare se l'auto ha subito dei danni da acqua o da incendio, o altri eventi che possono compromettere di fatto il valore e la sicurezza dell'auto. E sul terzo punto potete verificare che il chilometraggio sia quello reale e non manomesso. E magari un venditore ha voluto far sembrare l'auto più giovane. Guardate ad esempio questa BMW Serie 3. Il report di Carfax ci mostra che non ha ipoteche, ma ha avuto ben tre incidenti, di cui uno di media entità. Ci tengo a essere trasparente con voi, evitare al 100% delle fregature è impossibile. E chi vi dice il contrario sta mentendo. Però con Carfax puoi ridurre drasticamente questo rischio. Quindi mi raccomando, fai un test drive e fai ispezionare l'auto da un meccanico di fiducia e completa la verifica con un report di Carfax. Tutto ciò prima di acquistare un'auto usata. Infatti in esclusiva per voi con il codice RASTRO20 avete un 20% di sconto su tutti i report di Carfax. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento con il codice sconto già applicato. Al posto che pagarlo 20 euro lo pagherete 16. Io se fossi in voi lo farei subito perché è una garanzia ulteriore che avete quando acquistate un'auto usata. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram come Rastro dove pubblico contenuti a tema automotive. E ora iniziamo subito con questo video. Ma prima, sigla. Abbiamo visto i due giorni di Filming Day di Ferrari a Fiorano. Nel primo giorno dove hanno provato sulla F175 i paraspruzzi. Soluzione testata dalla FIA per aumentare la visibilità in condizioni di bagnato estremo. Che però vedendo dalle immagini e l'abbiamo commentato anche insieme non sembrano dare risultati incoraggianti. Anche perché la maggior parte dell'acqua viene alzata dalla zona del diffusore e non tanto dalla gomma. Ma la giornata più importante è stata la seconda dove hanno fatto le riprese commerciali con il nuovo sponsor HP e hanno testato di fatto la SF24 Evo. Ma come cambia? Gli ingegneri di Ferrari e Marco Togninalli hanno voluto vedere le performance della SF24 specialmente nell'unico curvone veloce di Fiorano. Un tracciato molto tortuoso con diversi avvallamenti che è lungo circa 3 km. E sappiamo che i numeri in Galleria del Vento e al CFD hanno rispecchiato i valori in pista. E questo è un primo segnale positivo. Ma non solo, anche i piloti hanno commentato il comportamento della SF24 Evo in pista e si sono mostrati soddisfatti, specialmente in questo curvone veloce. Dove la macchina generava molto carico di più rispetto a prima e riusciva quindi a essere più stabile, a velocità maggiori. Vassorci ha tenuto a abbassare la pressione che c'è sempre nei confronti di Ferrari. Però è evidente che questa SF24 Evo è migliorata nelle curve veloci, ulteriormente anche rispetto all'anno scorso. Abbiamo detto più volte che già la SF24 era migliorata su questo punto. E si vedono chiaramente le prime influenze degli ingegneri che sono arrivati da Red Bull a Ferrari durante la pausa invernale. E che hanno ispirato alcuni concetti di questa SF24 Evo, che ora andiamo a vedere nel dettaglio. La più visibile è sicuramente queste bocche di radiatori in stile squalo. Quindi con la parte superiore più sporgente rispetto alla parte inferiore del vassoio della bocca di radiatori. Ed è una soluzione ripresa da quella introdotta da Adrian Newey sulla RB20. Che ancora una volta rispetto a tutti gli altri team a inizio stagione aveva alzato l'asticella. E questo dobbiamo dirlo perché la RB20 su questo punto è stata molto innovativa. E ci ricordiamo tutti come molti erano dubbiosi durante lo shakedown e anche la presentazione di Red Bull sul raffreddamento della monoposto. Avendo una bocca di radiatori così piccola e una presa ad aria verticale sotto, sembrava troppo poco per raffreddare la power unit di Red Bull. Al contrario, finora Red Bull non ha mai accusato problemi di affidabilità su questo punto. C'è stato il problema in Australia di Verstappen che l'ha costretto al ritiro, ma non c'entrava nulla con il raffreddamento del motore. Detto questo, Ferrari è stata in grado di replicare la soluzione di Red Bull della bocca ai radiatori in pochissimo tempo perché, diciamolo chiaramente, è stata introdotta qualche mese fa e gli ingegneri Ferrari hanno azzardato in questo momento. Provando questa soluzione, all'inizio era anche stata scartata da Ferrari stessa perché non aveva dato risultati incoraggianti in Galleria del Vento e HFD. L'hanno ritestata con delle leggere modifiche e poi l'hanno approvata sulla SF24 Evo. Il gruppo guidato da Vassoio e Cardile si vede che è molto più dinamico rispetto al passato e non ha paura di sbagliare. Fanno dei tentativi che molto spesso danno i risultati concreti in pista. Ma qual è il motivo che spinge i team ad andare a aumentare il vassoio nella parte superiore alla bocca ai radiatori e diminuirlo nella parte inferiore? Beh, questo permette di avere un flusso più pulito e aumentare l'undercut delle pance così che il flusso riesce a scorrere lungo tutta la nervatura della pancia e il profilo laterale per andare verso la zona del marciapiede e quindi del fondo. Infatti guadagnare diversi centimetri cubici dell'undercut delle pance permette di avere un numeroso guadagno anche in termini di carico aerodinamico perché hai molta più portata d'aria che arriva nella zona posteriore. Con un maggiore undercut sotto le pance riesce a aumentare anche la pressione in questa zona e aumentando la pressione generi anche un maggiore effetto outwash mandando più aria sporca al di fuori della vettura. E in questo modo riesce a pulire anche le turbulenze che vengono generate dallo pneumatico anteriore. Per questo molto spesso vediamo che si modificano le pance alla zona dell'undercut con anche una modifica del marciapiede esterno perché questi due elementi sono in correlazione l'uno con l'altro. Aumentando l'undercut vai di conseguenza aumentare l'efficienza della monoposto che risulta più veloce nei rettilinei. Sappiamo che questa SF24 ha un po' più di drag rispetto alle altre monoposto anche rispetto alla SF23 ma non solo vai aumentare anche la portata d'aria nel fondo e quindi aumenti il carico. Quindi è fondamentale concentrare la pressione in quel punto andando a spostare l'aria turbolenta al di fuori della vettura. Altra modifica riguarda la zona superiore vicino all'alo dove sono stati aggiunti due generatori di vortice che sono questi appendici verticali curve. E anche questo elemento serve a aumentare l'effetto outwash nella parte superiore della monoposto in questo caso. Infatti la direzione della curvatura di questo appendice va verso l'esterno ed è fondamentale applicare questo appendice in quel punto perché c'è un livello di energia molto alto da parte dei flussi che arrivano sulla monoposto. E' stata modificata anche l'ampiezza dei specchietti che hanno una barra sottostante più lunga ciò serve a indirizzare meglio il flusso nella parte superiore delle pance. E' stata introdotta anche un'apertura che serve a evacuare l'aria calda della power unit nella zona dei cannoni soprannominata così ovvero la zona del cofano motore nella parte terminale. Questa aria calda viene evacuata e viene indirizzata verso la beam wing e la zona alta del diffusore. Ma non solo c'è anche una piccola modifica sull'ala posteriore che rimane invariata a livello di carico ma viene modificato il bordo d'uscita del secondo flap. Infatti le wing tip vengono anche più affilate soluzione che aumenta il carico in qualche punto senza perdere di efficienza scelta che ha fatto anche Mercedes sulla propria ala posteriore. E in effetti ala rossa serve un po' più di carico al posteriore per limitare il sovrasterzo della SF24 ma senza andare a limitare la velocità di punta. Che abbiamo detto sulla SF24 c'è un po' più di drag quindi è penalizzata. E questa soluzione sull'ala posteriore dovrebbe essere il giusto compromesso. Quindi di fatto le soluzioni riprese da Red Bull sono l'undercut al di sotto delle pance, la bocca ai radiatori in stile squalo quindi con questo bordo superiore più sporgente, anche il profilo della pancia stessa è più lineare e più affusolato e indirizza l'aria meglio nella zona del diffusore. E ci saluta quindi anche il bypass duct introdotto a Diego Tondi nel 2023. Il bypass duct era quel condotto che serviva a spostare l'aria dalla parte inferiore delle pancia alla parte superiore. Ora questo concetto è stato abbandonato da Ferrari che quindi ad oggi prende un po' la funzione di Red Bull. C'è questa presa d'aria verticale sotto la bocca ai radiatori che serve a raffreddare la Power Unit e nella parte superiore abbiamo invece delle appendici aerodinamiche. E quindi è evidente che nella rossa sono cambiate tanti elementi anche interni della Power Unit specialmente nella zona del raffreddamento d'aria. I radiatori sono stati spostati più centralmente e per questo è fondamentale avere quella presa d'aria verticale che va a raffreddare meglio la Power Unit nella parte centrale. Infatti i scambiatori di calore, aria, acqua sono posizionati più al centro. Anche la parte del bazooka è più bombata di questa nuova SF24 per permettergli di evacuare più aria calda. Cambia anche il fondo con il marciapiede che ha una forma diversa rispetto a prima. Infatti la parte marciapiede davanti alle ruote anteriori cambia la forma. C'è uno slot che permette di risucchiare meglio il flusso nella parte del fondo e indirizzarlo nel diffusore. Sarà fondamentale per Imola trovare il giusto setup. Si avrà un weekend normale senza sprint race, oserei dire finalmente, dopo il weekend di Miami e Cina. E quindi sarà importante lavorare sul setup. Non è detto che i aggiornamenti funzionino da subito. Come invece può anche essere che migliorino subito le performance della SF24. Si stima un guadagno di 2,3 al giro. Ma anche lì bisogna vedere poi in condizioni di gara, in condizioni di qualifica. Ci sono tante incognite a cui daremo solamente una risposta in questo weekend in pista. Per questo Wasser sì, si è mostrato contento del lavoro fatto, ma ha voluto abbassare un po' la pressione su Ferrari. E arriviamo all'ultima parte del video. Come vi ho promesso parliamo di altezze da terra, perché c'è una cosa fondamentale che dovete sapere, che ha testato Leclerc a Fiorano. Abbiamo visto come nei primi stinti a Fiorano Leclerc accusasse un po' più di sovrasterzo sulla SF24 Evo. Che presentava sì le modifiche nella parte superiore della monoposto, ma non le modifiche sul fondo. Questo perché Leclerc aveva un'altezza da terra più bassa e aumentando l'undercut al di sotto le pance e aumentando anche l'effetto outwash, vai a spostare il centro di pressione più avanti e quindi hai un posteriore più leggero, perché vai a creare più pressione nella parte anteriore che la spingi verso il basso. Al contrario, dopo diversi stint hanno modificato anche i canali venturi e il pavimento laterale, e infatti il sovrasterzo negli ultimi stint è stato migliorato, con Leclerc che ha anche aperto il DRS sul rettino principale di Fiorano, dove ha girato in 58 basso facendo un push lap, quindi un giro più concreto per vedere le performance di questa versione Evo. Quindi Ferrari ha testato diverse altezze da terra, un po' più alte, un po' più basse, per vedere qual è quella migliore con questi nuovi aggiornamenti, che spostano di fatto il centro di pressione più avanti, e quindi bisogna trovare il giusto bilanciamento della monoposto. Sono state già fatte quindi delle prove di setup per Imola, che poi andranno avanti con gli studi fatti in CFD, in Galleria del Vento, e anche durante le simulazioni pre-weekend Imola. Ora, arrivando alle conclusioni, quindi questa Ferrari cambia andando nella direzione di Red Bull? Beh sì, numerosi elementi che abbiamo visto sulla versione Evo sono ripresi da Red Bull, però c'è anche a dire che il team italiano ha una macchina che di base, come concetto aerodinamico e come struttura del telaio, è completamente diversa rispetto alla RB20. Quindi fare dei paragoni ci sta su alcune modifiche, ma è azzardato, perché sì, alcune cose rispondono alla stessa maniera, magari delle modifiche di micro aerodinamica, però di base Ferrari rimane una macchina molto centrata sull'avantreno, che ha tanto grip sulle ruote anteriori, al contrario Red Bull di base è una macchina che ha molto più grip sulle ruote posteriori. E queste due differenze di filosofia di sviluppo, non si possono modificare dall'oggi al domani. Ci vogliono anni prima di modificare il concetto aerodinamico di una vettura. Quindi sì, alcune soluzioni sono state riprese, e Ferrari ha fatto bene a sperimentarle sulla SF24 Evo, ma di base la nuova Ferrari rimane con un DNA proprio. E infatti vedremo sempre delle divergenze di comportamento in pista tra le due monoposto. Non stiamo parlando delle differenze che ci possono essere tra Red Bull e Racing Bulls, che invece sono due macchine molto più simili come filosofia di sviluppo. Sappiamo che di base Red Bull e McLaren sono un po' più simili, Ferrari è diversa, così come anche Mercedes. Ditemi cosa ne pensate nei commenti di questi nuovi aggiornamenti che abbiamo visto in pista a Fiorano. Quale novità vi ha sorpreso di più? Secondo voi Ferrari potrà lottare per la vittoria a Imola contro Red Bull? Ditemi la vostra, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema auto e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.